grazie a tutti grazie signore signori tutti chi mi ha guardato non lo so se io rimando i video nei social media comunque io continuo a fare collezioni di video in caso di che io voglio trasmettere in futuro grazie a tutti che mi ha seguito come ho detto io faccio l'estensione so fare estensione che non si non se ne accorgi poi quando lo faccio io spesso sono capace di farlo che non si vede che sono capelli aggiunti quindi poi se la mia forte le ho sempre fatto chi vuole che io gli faccio capelli mi puoi contattare comunque l'estensione è una estensione costa caro sono cosa quelli pata bene come faccio io sono rari durativa possono durare sei mesi da due mesi a sei mesi e se lo fa le persone giusta non si vede minimamente si vede solo la sua fascina e sua eleganza ma non le cose finte adesso ho finito adesso ringrazio tutti a prossimo grazie ciao a tutti grazie 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 a tutti